Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti da Gianni Samannà, ecco che oggi vi presento, vi faccio capire come si fa karaoke con niente, ecco basta una radio con il monitor, una video radio che poi è un lettore di DVD, ecco questa è la mia video radio, un monitor esterno alimentato a 12 volts, dopodiché si accende la radio, vedete quello che c'è nel monitor esterno c'è qua, si mette in modalità video, stiamo arrivando e si canta, si canta così. Signore e signori canta Gianni Samannà, cappella. E adesso siediti su quella seggiula, stavolta ascoltami. Senza interrompere, è tanto tempo che, volevo dirtelo, vivere insieme a te, è stato inutile, senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere, né da dividere, nella Si sono caduto anch'io, avanti il prossimo, mi lascio il posto vivo. Pavero diavolo, che pena mi fa, e quando ha letto lui, ti chiederà di più, glielo concederai, perché tu fai così, come sai fingere, se ti fa come me. Io adesso so chi sei, e non ci soffro più, e se verrai di là, te la dimostrerò, e questa volta tu, te la ricorderai. Io adesso spogliati, come sai fare tu, ma non illuderti, io non ci casco più, tu mi rimpiangerai, te la ricorderai, bella vent'anima. città 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 La canzone è molto alta, eh? Ciao a tutti i leggenni, ciao, ciao, ciao.